3, 2, 1 Siamo qui con Diego Marchioro, Presidente della Consulta Finanza Locale Anci Veneto Le associazioni degli emigranti veneti hanno fatto proposte precise all'Anci Veneto relative all'Imu e soprattutto si è fatto di considerare o meno le loro case, prime o seconde case Cosa accoglierete come Anci? Diciamo che le richieste dei rappresentanti degli emigrati sono più che legittime perché sono anche in buona parte previste dalle norme quindi noi non abbiamo difficoltà come associazione a consigliare i sindaci quindi manderemo comunque una comunicazione ai sindaci perché possono prendere in considerazione questa ipotesi che riteniamo anche rispettosa di un ruolo che l'immigrazione italiana ha svolto e sta svolgendo ancora per l'Italia credo che sia uno scambio vantaggioso quello di considerare le esigenze di queste persone che comunque riportano ancora in Italia moltissimi vantaggi quindi ecco credo che naturalmente come associazione possiamo prendere in considerazione queste richieste Perfetto, grazie